e poi va a fare tipo voler e basta dai a moto mio ha detto che lo doveva fare a modo suo quasi si capota indietro non serve davvero una ricorsa in fondo alle numero uno aspetta eh ma te sei fuori se ti prende voli giù fermati tira la su non sgarli tutto tira tira porca puttana piantala non prendi la marmita no perché la muovi tre due uno vai tre due uno scusa vai vai via piano eh vai bravo perché la deve stringere che c'è tutto lo spazio per allargarla a modo suo non ha funzionato vai vai anche tu devi perdere l'equilibrio vai così la girate insieme vai 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 prego non fare quando arrivi lì stai nella 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 carreggiata non pensare vedi l'albero devi arrivare fino a là non pensare di girare eh ah vai di qua fai più fatica qua che a venire su perché se vieni su largo va via da sola la moto perché prende la forza va via vai giù bravo cioè ma che cazzo sono lì a fare cioè hanno asfaltato hanno fatto un ponte cazzo hanno fatto un ponte stanno facendo ma state facendo il ponte stanno parisicando stanno parisicando il sentiero il ponte della ferrovia è la strada adesso sì ma tiene anche bene tiene anche bene adesso basta che bilanci bene il peso ecco io voglio continuare in mezzo dai bene andate ma si stanno tagliando le piante il ponte lo stanno facendo là sopra la ferrovia che cazzo sono lì a fare passa di sopra e basta eh Luca arriviamo fino in cima perché non ci passavo di fianco ma sai perché perché la stanno allungando diritta dove io la faccio scendere che vado la largo e poi chiudo e la stanno facendo di là di modo che vai su diritto e poi la chiudi via che è più facile da un sentiero della volpina va che cacchio ci è venuto fuori ma secondo me guarda sono sempre i passaggi migliori questi qua è inutile che si continua dici che se si rompe ci spara indietro tutte e due boh ribiuta il dente eh si ricorda di tagliare tutta l'edera boh basta di moto non ce n'è giù più no è già venuto no è già andato è già andato su anche lui che ha cannato la prima l'ha rifatta guarda un acero e un castagno e un altro castagno io vado di là a motocerola ti 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 Grazie a tutti.